questo video è la logica prosecuzione della lezione dedicata al tessuto emopoietico a cui vi rimando per una introduzione di carattere generale sull'origine delle cellule matiche e sulle peculiarità dal punto di vista istologico di questa strana copiata midollo rosso sangue in questa lezione possiamo entrare direttamente nel merito cioè la descrizione sistematica dei globuli rossi e globuli bianchi e delle piastrine ok oggi ho detto una bugia prima di descrivere le singole cellule è opportuno dare un'occhiata al sangue nel suo complesso ora a rigore questo primo sguardo si discosta dal metodo istologico nel senso che per qualche minuto non faremo ricorso a immagini microscopiche il sangue è un fluido di colore variabile a seconda del grado di ossigenazione è più scuro e con riflessi bluastri se prelevato dal circolo venoso sistemico oppure rosso vivo se viene direttamente dalle arterie o naturalmente anche dalle vene polmonari circa il 7 per cento del peso corporeo è costituito da sangue il che vuol dire che un individuo di corpotura media per esempio 70 kg di peso ne possiede circa 5 litri il pH ematico è lievemente basico e la osmolarità del sangue equivale a quella di una soluzione al 9 per mille di cloruro di sodio questa è la soluzione salina iniettabile la densità del sangue molto vicina a quella dell'acqua secondo alcuni è livissimamente inferiore di forse di uno 0,5 per cento ma attenzione a non confondere densità con viscosità perché il sangue decisamente più viscoso dell'acqua come facile osservare empiricamente come tutti sappiamo bene il sangue coagula rapidamente quando si trova fuori da vasi e per mantenere il sangue nella sua forma fluida è necessario trattarlo subito con agenti anticoagulanti per esempio l'eparina ciò fatto possiamo procedere con alcune osservazioni di base in vitro la più tradizionale delle procedure per analizzare quantitativamente il sangue è la sedimentazione tramite centrifugazione se si sottopone un campione di sangue scoagulato a per esempio mille g per una decina di minuti ma i protocolli sono molto variabili questo è ciò che si ottiene tre fasi separate in base alle rispettive densità sul fondo della provetta si osserva la frazione rossa che inutile dirlo è rappresentata dai globuli rossi in sospensione si osserva un liquido citrino relativamente trasparente che è rappresentato dal plasma e poi fra i due si apprezza un sottile strato biancastro che contiene globuli bianchi o leucociti e le piastrine o trombociti l'altezza della frazione rossa si aggira in condizioni normali intorno al 45 per cento di volume totale questo valore riportato in tutti gli esami clinici del sangue si chiama ematocrito il valore ematocrito può variare in diverse condizioni per esempio in uno stato di forte disidratazione l'ematocrito sale come effetto della diminuzione di acqua in circolo l'ematocrito sale però anche quando effettivamente si stimola l'aumento dei globuli rossi mentre una diminuzione significativa di ematocrito potrebbe essere un segno di anemia il plasma il plasma un miscuglio di una grande verità di sostanze di interesse biologico in soluzione acquosa per inciso l'acqua rappresenta il 90 per cento del peso totale ora attenzione l'elenco di sostanze che si possono rilevare misurare nel sangue è lunghissimo io preferisco non soffermarmi in questa sede la lista che vedete qui sotto è generica e incompleta ma dovrebbe dare un po l'idea del ruolo centrale del sangue cioè di essere un veicolo un mezzo per trasportare o traghettare e distribuire a tutte le parti del corpo gas nutrienti molecole di segnale mediatori dell'infiammazione della difesa immunitaria e naturalmente è anche il mezzo di trasporto per le cellule che transitano nei vasi per un certo periodo prima di passare al connettivo nel caso dei globuli bianchi o essere attivamente distrutte quando invecchiano come nel caso dei globuli rossi nella lezione che ho dedicato al tessuto emopoietico ho ripetutamente accennato all'origine mesenchimale di tale tessuto è ovvio quindi che anche il sangue appartiene a questa famiglia e facendo il parallelo con gli altri connettivi è effettivamente ragionevole affermare che il plasma rappresenta la matrice extracellulare del sangue quindi pensandoci bene nella panoramica dei connettivi in senso lato abbiamo incontrato matrici lasse matrici fibrose matrici molto dure mineralizzate gel solidi e anche questo connettivo è caratterizzato da una speciale matrice che in questo caso è liquida allora eccoci arrivate le cellule nell'ordine in cui saranno trattate partiremo con i globuli rossi ritrociti poi andremo nei globuli bianchi cominciando dai granulociti che si distinguono in neutrofili in eosinofili e in basofili e poi andiamo nel settore degli agranulociti con i monociti e i diversi tipi di linfocita e infine le piastrine o trombociti ma un momento perché nel titolo di questa pagina si parla di elementi figurati anziché di cellule allora questo è un po un sotterfugio delle sensicale perché le piastrine sono incluse nella lista pur non essendo cellule ma piuttosto piccole porzioni di citoplasma circondati da membrana e originati per frammentazione del megacariocito e poi tutto sommato anche il globulo rosso è un po strano come cellula come vedremo tra breve ho già accennato la tecnica dello striscio nel video sul tessuto emopoietico qui ne vedete un piccolo dettaglio in cui sono visibili numerosi globuli rossi o eritrociti o anche detti emazie sorvegliati da un singolo globulo bianco decisamente di buon umore il motivo per cui la colorazione è più chiara nella parte centrale del globulo rosso è che in quella zona il citoplasma è più sottile e questa è a causa della peculiare forma della cellula tipicamente descritta come disco biconcavo ora in questa bella immagine al microscopio elettronico a scansione insieme ai globuli rossi che sono numerosi vediamo anche altri menti figurati quelli che poi esamineremo più avanti allora ecco una sintetica carta di identità del globulo rosso i numeri che vedrete sono deliberatamente arrotondati anche a costo di una certa imprecisione sta di fatto che non troverete mai esattamente gli stessi valori in libri di testo articoli scientifici diversi il modo più appropriato di presentare i dati dovrebbe essere quello del range di normalità però qui ho preferito semplificare allora vediamo il diametro del globulo rosso si agire intorno agli 8 micron e lo spessore se guardiamo la cellula per così dire di profilo è più ridotto al centro intorno a un micron e maggiore invece lungo il bordo intorno e due micron possiamo anche analizzare la composizione del ciascun globulo rosso e come sempre in biologia vedete che l'acqua costituisce la frazione principale circa due terzi del totale della cellula però vi faccio notare invece la frazione della cellula occupata dalla emoglobina che è straordinariamente alta il contenuto proteico è altissimo nel globulo rosso e è dovuto quasi interamente all'emoglobina faccio invece ricorso a un range per descrivere la numerosità dei globuli rossi circolanti come vedete dal grafico i valori tipici sono più alti nel maschio ma in entrambi i sessi il range e include il numero 5 cioè 5 milioni di retrociti per millimetro cubo ora dato che come già detto la densità del sangue quasi identica a quella dell'acqua si può anche dire indifferentemente 5 milioni per microlitro moltiplicando questo numero magico per l'altro numero magico già visto 5 litri di volume matico totale in un individuo di corporatura media si ottiene questo numero totale di globuli rossi numero da capogiro uno di quei numeri che sono difficili da comprendere intuitivamente sono troppo grandi e ora visto che sto dando i numeri ecco un altro che a me personalmente fa ancora più impressione per motivi che spiegherò più avanti il globulo rosso ha una sopravvivenza media di 120 giorni poi come già accennato viene distrutto e da qui la necessità di una continua produzione di globuli rossi nel midollo rosso con un po di aritmetica si può stimare che il ritmo di tale ricambio e di circa 3 milioni di nuove cellule per ogni secondo di vita 3 milioni così 3 milioni ne approfitto qui per una annotazione di carattere generale ho già detto che le misurazioni in campo biologico non forniscono mai risultati identici e che valori dovrebbero sempre essere riportati come intervalli da un minimo a un massimo ma questo in realtà non basta questa barretta per esempio include tutti gli individui di sesso maschile o solo quelli normali e cosa significa normale e questi due estremi non sono tutto sommato numeri magici come il numero 5 a rigore bisognerebbe sempre far caso a come è stato determinato l'intervallo per esempio se la variabile misurata è distribuita normalmente quindi secondo una curva gaussiana nella popolazione i due estremi di questo range potrebbero indicare l'intervallo di una deviazione standard il che equivale a dire che circa due terzi degli individui hanno un numero di globuli rossi in questo intervallo oppure potrebbero corrispondere a due deviazioni standard o cioè circa il 95 per cento eccetera eccetera quindi è bene sviluppare una buona familiarità e competenza con cosa significano valori di riferimento cosa sono i range di normalità e come sono espressi nelle nostre fonti ma torniamo alla morfologia allora questa immagine al microscopio elettronico a trasmissione mi piace molto anche se c'è qualcosa che non mi quadra tanto con la barra di scala non so se vedete lo stesso problema che vedo io potrebbe trattarsi di un banale errore oppure la discrepanza tra le misure attese quelle riportate potrebbe essere dipesa da una contrazione del preparato una deformazione dei tessuti questo non lo so comunque questo è un vaso capillare di diametro appena sufficiente per far passare una cellula per volta e al suo interno vediamo il profilo di un eritrocita la cui forma corrisponde perfettamente alle attese la prima cosa che esaminiamo è la qualità del citoplasma allora sono due le caratteristiche che saltano all'occhio il contenuto della cellula appare amorfo e notevolmente elettron denso allora per convincerci di questo mettiamolo a confronto con il citoplasma di una cellula endoteliale come vedete in quest'ultima il citoplasma è mediamente più chiaro e non è amorfo nel senso che al suo interno sono visibili le forme caratteristiche degli organelli qualche vescicola forse un mitocondrio il globulo rosso dunque è privo di nucleo ed è privo di organelli ora dato che nessuna cellula può nascere senza nucleo e senza organelli è impossibile questo assetto è evidentemente il risultato di un differenziamento di grado estremo tanto che talvolta si usa il termine super differenziamento per descrivere ciò che succede durante l'evoluzione del globulo rosso allora il processo si svolge quasi interamente nel midollo rosso a partire dal pro eritroblasto che vedete qui indicato il processo si compie nell'arco di una settimana seguendo le tappe indicate qui a destra negli schemi e a sinistra negli schemi è mostrata la progressiva contrazione del nucleo frino alla sua eliminazione mentre invece qui non è apprezzabile direttamente la contestuale perdita di organelli che invece è uno dei fenomeni distintivi però un segno importante dell'evoluzione del globulo rosso che invece qui apprezziamo è il progressivo cambiamento di tintorialità dalla iniziale basofilia dovuta alla straordinaria abbondanza di rna ribosomale alla tardiva eosinofilia dovuta alla perdita di ribosomi e all'accumulo contestuale di moglobina questo grafico mostra l'andamento delle due curve nel tempo che qui è espresso in funzione della progressiva riduzione di volume del nucleo confrontate il grafico con le modifiche istologiche per farvi una buona idea complessiva del processo ok questa cellula impegnata in modo che verrebbe da definire maniacale nella produzione di omoglobine come fa solo questo tanto che per dedicare l'intero volume cellulare al trasporto della proteina rinuncia per così dire al corredo delle strutture che sono normalmente presenti nelle cellule cariotiche fa piazza pulita di tutto ciò che non è nel citosol prima di lasciare queste immagini vi faccio notare che in circolo si osservano anche un certo numero di globuli rossi ancora non completamente maturi questi elementi sono detti reticolociti per via di un peculiare aspetto del citoplasma che è legato alla residua presenza di qualche ribosoma la quantità di reticolociti osservabili nel sangue attenzione può essere utilizzata come indice di attività eritropoietica perché se vedo un aumento di reticolociti circolanti mi aspetto che a monte ci sia una aumentata produzione di globuli rossi il super differenziamento quindi porta a una radicale trasformazione della cellula inizialmente dotata di tutte le strutture necessarie per la propria sopravvivenza fino a che si arriva a un semplice involucro membranoso pieno di una singola specie proteica dedicata allo svolgimento di una singola funzione da questo punto di vista trovo intrigante il paragone con un tessuto peraltro molto diverso mi riferisco all'epidermide e in particolare ai cheratinociti un tuono pensiamoci i cheratinociti originano nello strato basale da cellule staminali e passano la giovinezza impiagnati nella sintesi di cheratina anch'essa proteina citosolica che si accumula si accumula fino a che a un certo punto la cellula elimina nucleo e organelli entrando a far parte dello strato corneo del tessuto guardate l'immagine qui sotto è interessante notare come la funzione fisiologica di questi due tipi cellulari si manifesti solo nel momento in cui dal punto di vista biologico la cellula a tutti gli effetti non è più vitale perché non è più in grado di produrre energia non è in grado di riparare i danni che inevitabilmente si accumulano nel tempo per azione non so di radicali liberi anche raggi gamma età e altre cause quindi la cellula è inesorabilmente destinata ad essere eliminata perché non riesce a far fronte al tempo che passa in un certo senso ora mentre le cellule dell'epidermide sono rimosse meccanicamente per attrito con corpi esterni il globulo rosso è distrutto dai macrofagi che riconoscono alterazioni a carico della membrana plasmatica cioè in un certo senso i globuli rossi senescenti sono considerati come non self trattati come corpi estrani e quindi eliminati dall'organismo l'altra caratteristica distintiva di questo citoplasma è la forte densità agli elettroni e questa caratteristica è facilmente spiegata dalla altissima concentrazione di proteine o meglio di proteina l'emoglobina di cui ho già parlato la elettron densità che si manifesta in questa microfotografia con la tinta molto scura il grigio molto scuro del citoplasma del globulo rosso è ulteriormente accettuata dalla presenza del metallo nell'emoglobina noi quattro atomi di ferro per ciascun tetramero di emoglobina l'emoglobina nel globulo rosso è tanta e se ne stimano 280 milioni di molecole per cellula il che significa che ogni ritrocita è in grado di trasportare oltre un miliardo di molecole di ossigeno prima di proseguire un rapido quesito cosa rappresenta questo profilo secondo voi un secondo di tempo per pensarci la risposta la vedete indicata qui ricordate che mentre nello striscio di sangue le cellule sono sempre intere al microscopio elettronico la trasmissione il campione è incluso in una resina estremamente dura e le singole cellule sono poi ridotte in sezioni di poche decine di nanometri di spessore quindi è tutto normale osservare solo una sezione della cellula ematica laddove al microscopio ottico si vede la cellula intera ma che ruolo ha la strana forma del globulo rosso i motivi sono almeno tre mettiamo a confronto il profilo della cellula quello vero con una ipotetica morfologia generica come una piccola sfera la forma appiattita aumenta il rapporto superficie volume e abbrevia il tragitto che i gas devono percorrere dal plasma alle parti più interne del citoplasma e viceversa quindi nel complesso l'efficienza degli scambi gassosi è aumentata un altro vantaggio della forma disco biconcavo ha a che vedere con una deformabilità che è significativamente superiore rispetto a quella di una sfera questa flessibilità migliora la capacità di scorrimento nei vasi di calibro ridotto come i capillari che presentano improvvise di ramazioni e curve molto strette da ultimo questa morfologia favorisce la formazione di pile di globuli rossi che sono detti rouleaux globuli rossi tendono cioè ad aggregarsi e a viaggiare insieme facilitando ulteriormente il flusso nei vasi più sottili il discorso fila abbastanza ma innesca subito un altro quesito come si mantiene questa morfologia cosa impedisce agli ritrociti di assumere la forma geometricamente più rilassata di una sfera e la risposta va cercata nella stretta associazione tra plasma lemma e citoscheletro vediamo ecco un'immagine sgranata ma significativa di un pezzetto di globulo rosso al microscopio elettronico a trasmissione in linea di principio il grigio dietro di me corrisponderebbe al plasma in vivo mentre l'ombra elettron densa e citosol del globulo rosso la cellula ovviamente delimitata da una membrana plasmatica come si vede dalla doppia linea densa sappiate che il globulo rosso è da molti decenni il principale modello di studio delle membrane biologiche data la facilità con cui si possono ottenere campioni di tessuto separare queste cellule rispetto al resto del tessuto e poi isolare il plasma lemma rispetto al citosol privo di organelli per esempio tramite centrifugazione tra le scoperte degne di nota c'è quella che riguarda proprio le interazioni tra plasma lemma e proteine di membrana sia intrinseche che estrinseche a loro volta collegate con componenti del citoscheletro questa immagine per esempio mostra la membrana cellulare dell'eritrocita vista dall'interno cioè dal lato citoplasmatico e qui è ben visibile un articolato reticolo di filamenti inoltre sappiamo che queste densità rappresentano punti di ancoraggio di questo reticolo sulla membrana attraverso delle proteine di membrana evidentemente il modello di questa architettura molecolare include numerose componenti e questo schema è solo parziale non entro nei dettagli magari dedicherò un breve video supplementare a una descrizione un po' più approfondita di questo argomento ma vi faccio solo notare che il reticolo parallelo alla membrana è formato da filamenti di spettrina e che sono inoltre appena visibili brevi frammenti di actina disegnati in verde come di piccoli pezzetti e in realtà in vivo questi pezzetti fanno parte di una dei filamenti che formano una fitta rete che si colloca in un livello un po' più interno rispetto alla spettrina infine le componenti qui sono azzurre gialle verdi sono le proteine di membrana che rendono il reticolo solidale con la superficie della cellula allora il mantenimento della forma e al contempo la flessibilità del globulo rosso sono strettamente collegati a questa intera struttura molecolare non dovrebbe essere difficile intuirlo prima di chiudere con i globuli rossi mi è caduto l'occhio su un'immagine che trovo piuttosto intrigante evidentemente la scelta evolutiva di privare gli eritrociti di tutti gli organelli non è universale in questo sangue di rana per esempio gli eritrociti sono nucleati non ho approfondito l'argomento ma mi vengono in mente alcuni quesiti che un po' lascio aperti oltre al nucleo ci sono per caso organelli citoplasmatici e se sì la cellula è in grado di riparare la membrana e quindi magari di vivere più a lungo quali sono i vantaggi gli svantaggi delle due soluzioni e veniamo ora ai globuli bianchi cellule che a differenza dei globuli rossi agiscono essenzialmente fuori dal circo lematico tutte impegnate nei meccanismi di difesa immunitaria personalmente trovo questo argomento molto ostico perché il funzionamento delle eucociti è straordinariamente complesso raffinato ma si gioca principalmente sui meccanismi molecolari che in larga misura sfuggono alle osservazioni con le tecniche istologiche di routine quindi qui io cercherò di enfatizzare i correlati morfologici delle principali funzioni le eucocitarie anche se il livello di semplificazione sarà tale certe volte da far pensare più a un cartone animato per bambini che ha una trattazione scientifica speriamo bene la prima semplificazione consiste nel suddividere tutti i globuli bianchi in cinque tipi cellulari quelli che vedete nel disegno sono effettivamente le cinque cellule distinguibili al microscopio come vedremo meglio più avanti ma questa è una semplificazione perché alcune di queste cellule sono ulteriormente suddivisibili in base al particolare corredo di marker molecolari per esempio proteine di membrana presenti su un sottotipo ma non sull'altro e oggi sappiamo che questi pattern di espressione genica corrispondono a specifiche proprietà funzionali cioè due cellule apparentemente uguali al microscopio possono in realtà comportarsi in modo molto diverso dal punto di vista biologico tutto questo lo menziono ora all'inizio ma non lo tratterò sostanzialmente in questa lezione sul piano istologico i globuli bianchi sono classicamente suddivisi in due categorie qui a destra ci sono i cosiddetti granulociti che comprendono i neutrofili gli osinofili e basofili mentre a sinistra si vedono gli agranulociti cioè monociti e linfociti il riferimento al termine granulo merita un commento a parte in istologia questo termine si usa per indicare un corpuscolo ben colorabile ma essenzialmente puntiforme non ulteriormente risolvibile questo per esempio è un granulocito e si chiama così perché nel citoplasma sono decisamente evidenti appunto numerose granulazioni bisogna prendere nota del fatto che questo termine puramente descrittivo cioè non dice che cosa sia questo piccolo oggetto la microscopia elettronica trasmissione ha consentito di svelare la natura dei granuli leucocitari oggi sappiamo che si tratta di vescicole delimitate da membrana qualcosa di simile si osserva per esempio in queste cellule che so che appartengono a una ghiandola esocrina dove i granuli citoplasmatici rappresentano vescicole destinata alla secrezione del prodotto della ghiandola ma ripeto usando il termine granulo di fronte a un preparato per la microscopia ottica stiamo implicitamente riconoscendo un limite metodologico cioè diciamo non siamo in grado di descrivere in maggiore dettaglio l'immagine e allora diciamo granulo questi per esempio sono cheratinociti dell'epidermide quelli che si trovano nello strato appunto dei granuli avendo ancora in mente gli altri granuli quelli sopra e sinistra potremmo rapidamente dedurre che anche in questo caso siamo di fronte a vescicole magari di secrezione ma avremmo torto perché questi sono in realtà a massi molecolari in sede citosolica non circondati da membrana quindi attenzione anzi vi dirò di più certe cellule come questi neuroni nel cervelletto sono così piccole compatte da essere loro stesse definite granuli anche questo si definisce strato dei granuli ma in questo caso non per via di granulazioni citoplasmatiche ma perché l'intera cellula è descritta come granulo non posso farci nulla tornando quindi ai nostri globuli bianchi la categorizzazione si basa sulla presenza o meno di granuli chiaramente osservabili al microscopio ottico laddove questi granuli rappresentano effettivamente particolari vescicole attenzione a una possibile trappola legata a questa definizione uno potrebbe pensare che il termine agranulocita implichi un'assenza di vescicole nei linfociti e nei monociti in particolare cosa decisamente assurda in particolare per quanto riguarda questi ultimi le vescicole ci sono e come ma sono piccole indistinguibili al microscopio ottico un'altra cosa che genera facilmente confusione uno si aspetta che questa suddivisione fra granulociti e agranulociti sia significativa anche sul piano funzionale cioè che esista una parentela più stretta fra i globuli bianchi nel giallo e tra quelli nel verde ma non è così tanto per dire i monociti condividono diverse importanti caratteristiche con i neutrofili e sono decisamente diversi invece dai linfociti anzi richiamando le linee di differenziamento scopriamo che i monociti sono più strettamente imparentati pensate con i globuli rossi che non con i linfociti e questo se vogliamo un po strano cercherò di affrontare separatamente questo tema qui volevo avvertirvi della complessità che quasi inevitabilmente crea un po di confusione allora prima di passare alla descrizione delle caratteristiche specifiche di ciascun globulo bianco è utile trattare brevemente alcune proprietà condivise da tutti i leocociti ho già detto che queste cellule restano in circolo per un tempo limitato che poi si trasferiscono nel connettivo che circonda i vasi dove effettivamente svolgono la loro funzione biologica prima di essere eliminate e questo con qualche importante eccezione a cui farò un cenno più avanti i meccanismi che regolano la extravasazione dei globuli bianchi cioè l'uscita dai vasi sono meglio conosciuti per quanto riguarda i granulociti neutrofili che quindi noi adesso useremo come esempio guida ma attenzione perché le regole del gioco non devono essere troppo diverse anche per gli altri tipi cellulari allora vediamo la fuorescita dal vaso si chiama diapedisi e avviene prevalentemente a livello delle venule post capillari il fenomeno è il risultato della collaborazione tra almeno tre tipi cellulari innanzitutto dobbiamo immaginare un tessuto connettivo che è la principale sede fisica della difesa immunitaria e perennemente sorvegliato da macrofagi residenti macrofagi tessutali qualche volta anche detti istiociti ora ipotizziamo che in seguito per esempio a una ferita un certo numero di batteri siano inoculati nel connettivo ed entrino a contatto con il macrofago macrofago anche per mantenere alto il suo nome può naturalmente fagocitare il malcapitato batterio ma in realtà fa cose ancora più interessanti per esempio si attiva e lancia una sorta di segnale di allarme che è rappresentato dal rilascio di certi peptidi detti citochine nella matrice circostante ci sono attenzione tante citochine diverse alcune con attività antinfiammatoria altre che sono invece pro infiammatorie come quelle per altre indicate qui che sono le interleochina 1 il fattore di necrosi tumorale alfa breve parentesi i nomi delle proteine talvolta sono strani perché uno potrebbe dire cosa c'entrano i tumori con una piccola infezione batterica bisogna sempre tenere presente che le proteine possono intervenire in più di una situazione fisiologico patologica e che il nome che rimane appiccicato alla molecola spesso fa riferimento al primo effetto scoperto dai ricercatori hai aperto la parente chiudila le citochine diffondono tutto intorno al macrofago fino a giungere alla venula più vicina e lì cosa fanno si legano a recettori posti sulla superficie basale dell'endotelio quella rivolta verso il connettivo il segnale viene trasdotto nella cellula endoteliale che a sua volta si attiva è un processo che qui non è mostrato ma lo fa esponendo sul versante luminale cioè sulla superficie apicale della membrana le selettine che sono molecole di adesione e che vediamo qui ingrandite le selettine a loro volta si legano a glicoproteine della membrana leucocitaria questo legame tra la selettina e il suo recettore è relativamente debole ma avviene in più punti lungo la superficie del neutrofilo provocando un fenomeno detto rolling la cellula cioè rallenta e rotola letteralmente lungo la superficie dell'endotelio spinta in avanti dal flusso ematico ma trattenuta dalle selettine la cellula in questa animazione appare isolata ma dovete immaginare il vaso pieno di plasma e di migliaia di globuli rossi che scorrono ad altissima velocità rispetto a questa per inciso ho accennato alle selettine espresse sulla superficie della cellula endoteliale per la precisione queste si chiamano e selettine e sono simili ad alte proteine che si trovano sulla membrana dell'eucocita e sulla membrana delle piastrine come vedete queste varianti prendono il nome dalle rispettive cellule qui non mi dilungo perché la storia si fa rapidamente molto complessa ma un possibile ruolo per le l selettine cioè le selettine espresse dall'eucocita sarebbe quello di riuscire a coinvolgere nel rallentamento altri globuli bianchi quindi immaginiamo un globulo bianco che sta facendo rolling sull'endotelio ma che a sua volta esprime le selettine che sono a loro volta in grado di far rallentare altri globuli bianchi nonostante questi ultimi non siano a contatto con l'endotelio ok come ho detto il legame con le selettine provoca il rotolamento del globulo bianco ma non riesce a fermare la cellula tuttavia il neutrofilo viene a sua volta indotto a esprimere altre proteine di membrana le integrine anch'esse molecole di adesione mentre l'endotelio produce il corrispondente recettore il legame tra integrine e recettori pentegrine è più forte rispetto a quello delle selettine e provoca l'arresto della cellula nel frattempo sempre come parte di questa cascata di attivazioni le giunzioni tra le cellule endoteliali sono attemporaneamente allentate favorendo il fenomeno della diapesi il neutrofilo si incunea nei varchi che si sono aperti nella parete della venula e grazie alla sua spiccata deformabilità esce dal vaso trovo interessante riflettere su questa sorta di escalation che porta al reclutamento leucocitario un segnale debole da parte del macrofago provoca l'esposizione di poche selettine il neutrofilo può essere temporaneamente rallentato per poi essere trascinato via dal flusso ematico ma con l'aumento delle selettine a cui si sommano poi le integrine e poi i recettori delle integrine le probabilità di rolling e di arresto aumentano progressivamente e il numero di leucociti reclutati sarà quindi proporzionale all'entità dello stimolo infiammatorio anche solo pronunciare la parola infiammazione mi fa mancare il terreno sotto i piedi perché l'argomento è decisamente al di là delle mie competenze spero solo di non dire troppe stupidaggini poco fa ho detto che la diapesi è favorita dall'allentamento delle giunzioni tra le cellule endoteliali questo meccanismo si chiama anche migrazione paracellulare è dimostrato schematicamente qui in alto tuttavia come vedete qui in basso è stata anche descritta una via cosiddetta transcellulare che lascerebbe intatte le giunzioni e comporterebbe invece un attraversamento del citoplasma della cellula endoteliale questo schema fa assomigliare la diapesi a una specie di transfagocitosi non credo che il termine esista realmente cosa succederebbe in base a questo schema il globulo bianco viene prima incorporato nella cellula endoteliale e poi espulso sull'altro versante ed effettivamente riportate in letteratura la visualizzazione specialmente a microscopio elettronico di leucociti interamente compresi all'interno della cellula endoteliale lo stesso fenomeno può essere descritto in modo un po' diverso questo schema un pochino più dettagliato mette in evidenza il ruolo un po' più attivo da parte dell'eucocita che emette prolungamenti detti invadosomi molto suggestivo il termine che tastano il terreno e quando le condizioni sono favorevoli per esempio quando trovano che non c'è il nucleo davanti ma c'è solo la parte piatta del citoplasma vanno in profondità e guidano l'attraversamento dell'endotelio qui sotto vedete infine leucocita nel lato di attraversare l'endotelio secondo i due modelli qui passa tra due cellule vicine in seguito all'alentamento delle giunzioni la via paracellulare mentre sotto è mostrata la via transcellulare via che vi ripropongo ulteriormente con questa ricostruzione plastica con la cellula endoteliale in verdino e il leucocita che la sta attraversando vi prego di notare che durante il passaggio del leucocita l'integrità della membrana endoteliale non è violata mi soffermo su questo dettaglio perché penso che sia importante non perdere mai di vista i principi di topologia estologica alcune regole di base inviolabili come questa una cellula per esempio può addirittura attraversare un'altra a patto però che le membrane non siano mai interrotte aperte o lacerate da un punto di vista topologico ripensandoci questo tipo di apertura ricorda il modo in cui è fatto un poro nucleare cosa succede in seguito alla fuoriuscita del globulo bianco ricordiamoci che qui fuori ci sono sempre i macrofagi attivati che rilasciano citochine le quali diffondono nello spazio circostante che di fatto è una matrice extracellulare e che svolgono anche un'azione di richiamo verso i globuli bianchi appena extravasati i globuli bianchi grazie alla loro capacità di compiere movimento ameboide seguono la traccia indicata dal gradiente di concentrazione delle citochine cioè si muovono verso la sorgente raggiungendo così il bersaglio dell'intero processo in questo caso batteri penetrati nel connettivo il fenomeno del movimento cellulare provocato e guidato da mediatori chimici si chiama chemiotassi è un processo davvero affascinante ed è dimostrabile in modo molto suggestivo utilizzando tecniche di micro cinematografia impreparati in vitro notate qui che le cellule sono vive quindi non possono essere trattate con i tradizionali metodi di colorazione per vederla microscopio si sfruttano e si amplificano invece le alterazioni del percorso che la luce compie attraversando le cellule che sono poste in un piattino di vetro con liquido di coltura l'esempio qui vicino è particolarmente suggestivo perché mostra un leococita attratto da un fattore chemiotattico rilasciato dalla micropipetta che è visibile a sinistra sicuramente il video è stato accelerato ma il modo in cui la cellula reagisce allo spostimento della micropipetta quindi della fonte del fattore attrattivo è per me spettacolare sembra quasi che la cellula sia stata guidata da una volontà propria attenzione questo è un tipo di ragionamento che naturalmente ci porterebbe su una china molto pericolosa senza accedere nel dettaglio possiamo provare a chiederci in che modo la cellula sia in grado di sapere da dove viene il fattore chemotattico un meccanismo plausibile si basa sul fatto che l'estremità della cellula più prossima alla fonte sia investita da una quantità maggiore di segnale rispetto all'estremità opposta e questa causa della progressiva diffusione della sostanza nel matrice le citochine naturalmente esercitano la loro azione tramite recettori di membrana e recettori a loro volta trasducono il segnale nel citoplasma in questo caso provocando l'attivazione del citoscheletro di actina che insieme le miosine provoca le deformazioni della cellula quelle deformazioni che sono necessarie per svolgere il movimento in un modo che in realtà non conosco questa asimmetria nel segnale che raggiunge le diverse parti della membrana si potrebbe tradurre in un pattern asimmetrico di attivazione actinomiosinica dando direzionalità al movimento in sostanza questo schema non spiega realmente come si muove il leucocita è più che altro un incoraggiamento a far caso alla nostra naturale tendenza a ricorrere un po all'animismo alla magia per concettualizzare fenomeni naturali quindi riassumendo tutti i globuli bianchi sono destinati a circolare per un tempo limitato a uscire dai vasi attraverso la diapedesi al di fuori dei vasi sono capaci di svolgere di effettuare un movimento ameboide che è guidato dal fenomeno della chemiotassi i globuli bianchi in generale sono rapidamente eliminate rimpiazzati anche se attenzione non tutti per cui alcuni invece hanno una vita molto lunga a proposito di quest'ultimo punto si stima per esempio che in un organismo adulto diversi miliardi di neotrofili miliardi di neotrofili sono distrutti ogni giorno e i loro residui fagocitati da macrofagi all'estremo opposto troviamo invece linfociti che come probabilmente già sapete sono custodi della memoria immunitaria anche per molti anni prima di passare alla descrizione morfologica dei cinque globuli bianchi facilmente distinguibili a microscopio vi do ancora qualche numero tenete a mente queste immagini di striscio di sangue perché ci sarà un commento da fare più avanti premesso che la maggior parte dei globuli bianchi si trova in realtà nei connettivi la numerosità di quelli circolanti varia entro certi limiti le cifre che vedete qui sono puramente indicative come al solito non troverete due libri di testo che riportano gli stessi valori ciò detto importanti variazioni rispetto a questo tipo di norma sono invariabilmente indicative di patologie in atto quindi avere una buona familiarità con questo range è essenziale per qualsiasi operatore o studiosi in ambito biomedico a me piace identificare valori facili da ricordare qui per esempio noto che tra i due estremi c'è anche il numero 5.000 che mi fa subito venire in mente un altro numero magico già visto cioè i 5 milioni di globuli rossi questo consente di stabilire rapidamente il rapporto numerico fra globuli bianchi e globuli rossi che è circa di 1 a 1000 tenete presente questo dato la prossima volta che guardate un'immagine semplificata magari come questa nella realtà immaginando di essere spettatori del flusso ematico in un piccolo vaso come questo dovremmo contare in media un migliaio di globuli rossi che ci passano davanti prima di adocchiare finalmente anche un singolo globulo bianco ma allora questa microfotografia che avevo fatto vedere cos'è photoshop oppure è vera e magari l'istologo ha fatto salti di gioia per la fortuna di vedere i cinque leucociti tutti insieme in un'inquadratura non lo so ok allora questo è il numero totale ma qual è la numerosità di ciascun tipo di globulo rosso naturalmente la numerosità può essere espressa in termini assoluti per unità di volume e tali valori sono oggi inclusi in tutti i tabulati di analisi di laboratorio del sangue sono facilmente reperibili sui testi non ve li mostro qui perché preferisco invece mostrare la tradizionale formula leucocitaria cioè la percentuale di ciascun tipo cellulare rispetto al totale i globuli bianchi più numerosi sono i neutrofili che come vedete rappresentano circa i due terzi del totale seguita poi dai linfociti che possono arrivare anche un terzo del totale e poi a scendere decisamente meno numerosi monociti e poi eosinofili e poi il raro basofilo ogni tanto attenzione i numeri che vedete in questa torta sono molto arbitrari ho scelto questi a partire dagli intervalli che sono comunemente indicati come normali e per un semplice fatto perché questi per me sono facili da ricordare 60 30 6 3 1 e così arriviamo a 100 questa tabella ha tre colonne per ciascun tipo ma potrebbero essere molte di più e io vi incoraggio magari a mettere insieme una vostra sinopsi aggregando fonti diverse certi parametri attenzioni sono più ostici di altri e la sopravvivenza media per esempio è un valore in molto difficile da definire le stime per alcune cellule sono evidentemente più precise rispetto ad altre e un valore sorprendentemente difficile da riportare è la dimensione del globulo bianco perché la loro intrinseca deformabilità produce variazioni piuttosto significative a seconda dello stato in cui si trovano al momento del prelievo e a seconda della preparazione qui allora io vi propongo una semplificazione estrema che volendo voi potete integrare con qualche numero più preciso allora i leucociti più grandi sono i monociti ok vedete qui i linfociti sono decisamente i globuli bianchi più piccoli mentre i granulociti sia pure con piccole variazioni hanno un diametro intermedio guardate sempre comunque globuli rossi circostanti che sono di dimensione prevedibile per farvi un'idea dell'ordine di grandezza di queste cellule pur tenendo presente che le leucociti sono relativamente appiattiti sul vetrino quindi il loro diametro tende ad essere sovrastimato rispetto alla forma sostanzialmente sferica della cellula liberamente circolante e l'uso del globulo rosso come come piccola barra di scale microscopia molto diffuso con poche eccezioni tutti i preparati istologici presentano da qualche parte un po di globuli rossi e quindi buttare l'occhio sul globulo rosso e guardare tessuti circostante aiuta a identificare rapidamente le misure relative degli oggetti siamo finalmente pronti a esaminare le proprietà specifiche di ciascun globulo bianco e lo faremo nell'ordine presentato in questa tabella intende esporre questa parte in modo succinto perché come già accennavo ciascuna di queste cellule meriterebbe trattati a sé stanti tanto per dire questo è il numero di articoli scientifici in cui sono indicizzati i nomi delle cellule fa particolarmente spavento l'impatto sulla ricerca dei linfociti come vedete ma l'interesse sull'intero ambito è del tutto evidente ma il fatto è che appena ci si addentra nell'argomento ci si discosta dall'ambito disciplinare della morfologia io qui faccio una precisa scelta di campo mi concentro deliberatamente su ciò che si deduce osservando le cellule al microscopio e allora iniziamo con i granulociti con una premessa collettiva abbastanza importante come già detto tutti i leucociti possiedono vescicole citoplasmatiche e tra queste spiccano i lisosomi in queste cellule e sono anche definiti granuli primari o azzurrofili per motivi tintoriali su cui non mi soffermo i granulociti invece si chiamano così perché in aggiunta ai granuli primari possiedono altri granuli citoplasmatici detti granuli specifici perché sono vescicole di forma dimensioni e contenuto caratteristici per ciascuno tipo cellulare e allora iniziamo dai neotrofili ecco alcuni esempi di granulociti e neotrofili nello striscio le principali caratteristiche sono un citoplasma abbondante relativamente pallido e un nucleo plurilobato e polimorfo attenzione nucleo plurilobato è diverso da plurinucleato i leucociti circolanti sono tutti monnucleati nonostante la loro forma bizzarra e i lobi che talvolta sono connessi tra loro solo da un sottile istmo il termine polimorfo fa riferimento alla variabilità morfologica del nucleo come vedete in queste immagini peraltro negli individui di sesso femminile è talvolta visibile una piccola espansione del nucleo come un appendice e si tratta del corpo di bar che rappresenta il cromosoma x inattivo sempre a proposito di nucleo per motivi che non conosco il numero di lobi tende ad aumentare nel tempo e questo fatto può essere sfruttato per una interessante deduzione una diminuzione nel numero medio di lobi visibili nei neutrofili in uno striscio questo è un fenomeno che è anche detto spostamento a sinistra della curva dove per curva si intende la distribuzione statistica del numero di lobuli nucleari e questo spostamento dicevo suggerisce la possibilità di un recente aumento nel ritmo di produzione di neutrofili è una cosa un po paragonabile all'aumento di del numero di reticolociti circolanti a cui avevo accennato in precedenza i granuli citoplasmatici adesso vediamo qui sono appena visibili ma possiamo aiutarci con un'immagine al microscopio elettronico a trasmissione i granuli specifici dei neutrofili sono relativamente piccoli e contengono una varietà di enzimi catalitici nonché attivatori del complemento e altri peptidi ad azione battericida l'isozima, l'attoferrine eccetera nella microscopia elettronica a trasmissione data la sottigliezza della sezione i lobi del nucleo possono apparire completamente separati come in questo caso quindi a dare l'illusione che la cellula abbia effettivamente due nuclei ok ma se avessimo la possibilità di studiare sezioni seriate in ciascuna cellula prima o poi incontreremmo l'istmo di collegamento come per esempio qui a proposito non lo so per certo ma questo potrebbe forse essere un corpo di bar comunque è possibile fare un'ipotesi sul perché il nucleo di queste cellule si è evoluto in questo modo non ho trovato fonti autorevoli sarei molto grato se qualcuno me le segnalasse ma è facile ipotizzare che un nucleo plurilobato è certamente più malleabile possa facilitare la deformazione dell'intera cellula durante la diapedesi nonché facilitare la fagocitosi di oggetti voluminosi batteri gruppi di batteri corpi estranei potendosi in un certo senso mettere da parte lasciando un ampio spazio di citoplasma a disposizione per la fagocitosi a proposito invece del citoplasma due interessanti caratteristiche sono la scarsità di mitocondri e in aggiunta la presenza di fini granulazioni presenti in sede citosolica che rappresentano ammassi di glicogeno un altro modo ancora di utilizzare il termine granulo tanto glucosio a disposizione pochi mitocondri questi sono tratti che fanno pensare a una cellula capace di funzionare prevalentemente attraverso la glicolisi anaerobia tra un minuto tornerò su questo tema ma nel frattempo il neotrofilo è insieme al macrofago il principale fagocita dell'organismo particolarmente attivo nei confronti dei batteri ho già descritto la spiccata motilità di questa cellula che è in buon accordo con la capacità di deformarsi attivamente durante la fagocitosi in entrambi le circostanze necessario un citoscheletro di microfilamenti e di miosina molto attivo in occasione di infezioni batteriche in seguito al richiamo operato dai macrofagi residenti nel tessuto vi ricordate la produzione di neutrofili nel midollo aumenta in modo molto significativo e numeri altissimi di cellule mature giungono nella zona affetta per entrare in azione come sappiamo fin da bambini la massiccia azione antibatterica dei neutrofili può manifestarsi macroscopicamente con una raccolta di pus essenzialmente costituito da detriti cellulari uno sguardo alla conta dei neutrofili circolanti è un passaggio assolutamente indispensabile nella pratica clinica è un episodio di una cara amica che lamentava febbre con dei picchi a distanza di qualche ora dolori alla schiena e era andata dal suo medico che era un bravo omeopata bravissimo e che le dava le goccine e nei giorni la situazione peggiorava peggiorava finché lei finalmente si è decisa a rivolgersi a qualcun altro credo che fosse andata al pronto soccorso dove l'hanno salvata per miracolo perché aveva un ascesso che era partito dal rene e stava attraversando il diaframma per per arrivare ai polmoni mi stava diventando polmonite e un semplice esame del sangue con conta dei neutrofili avrebbe istantaneamente messo in allarme il clinico dando le opportune indicazioni terapeutiche invece no goccine inutile dire che la fagocitosi è seguita dalla fusione con i granuli al fine di eliminare i microrganismi ma per essere precisi sui meccanismi che portano all'uccisione dei batteri bisognerebbe entrare in un labirinto ancora parzialmente sconosciuto di processi di fattori probabilmente implicati se l'argomento vi interessa vi posso suggerire di cercare questo codice identificativo per accedere a un articolo di qualche anno fa sull'argomento dell'uccisione dei batteri ok cambiamo pagina ecco alcuni esempi di granulocito e osinofilo si notano immediatamente i voluminosi granuli citoplasmatici fortemente acidofili e il nucleo che è caratteristicamente bilobato questo set di immagini ci ricorda che i preparati istologici hanno tutti una cosa in comune sono tutti diversi non importa quanto fedelmente seguiamo il protocollo il risultato finale risente di un'infinità di variabili che non sempre riusciamo a controllare qui per esempio la tinta del colorante acido è insidiosamente simile a quella del colorante basico con risultato di rendere la diagnosi di tipo cellulare più ostica rispetto per esempio a questa cellula il modo migliore per evitare errori è di trovare nello stesso preparato elementi di paragone no dico questo è la tinta dell'eosina in questo preparato questa è l'emotossilina questo è l'altro colorante ecco un eosinofilo al microscopio elettronico a trasmissione dove si vedono bene i granuli specifici decisamente più voluminosi rispetto a quelli dei denotrofili il resto del comparto membranoso è poco sviluppato ok i granuli sono tipicamente allungati per la presenza di un corpo denso un cristalloide viene definito che qui è ben visibile circondato da una matrice più chiara tenete presente che è stata descritta la composizione differenziale fra il cristalloide e la matrice circostante è un dettaglio su cui non mi soffermo in ogni caso sappiate che il contenuto dei granuli include proteine ad azione antiparassitaria tant'è vero che gli osinofili circolanti aumentano significativamente di numero in soggetti affetti da una parassitosi oltre all'azione antiparassitaria gli osinofili svolgono un ruolo di modulazione di certi processi infiammatori una proprietà attribuita a questi leucociti è la fagocitosi dei complessi antigeno anticorpo come un po come se fossero gli spazzini di una precedente reazione immunitaria c'è un'altra importante funzione degli osinofili su cui tornerò tra breve ora però passiamo all'ultimo granulocito che è il basofilo è il più raro dei globuli bianchi l'individuazione anche di un singolo basofilo nello striscio può richiedere molta pazienza la cellula è ovviamente caratterizzata da granuli specifici molto voluminosi che possono essere così densi da mimetizzare quasi perfettamente il nucleo anch'esso ovviamente basofilo a proposito il nucleo può essere bilobato e quindi abbastanza simile a quello dell'osinofilo ma può anche presentarsi in una curiosa forma s al microscopio elettronico è ancora più evidente la notevolissima dimensione dei granuli citoplasmatici il cui contenuto attenzione ricorda da vicino quello descritto nelle vescicole dei mastociti del connettivo e quindi la secrezione del miscuglio di sostanze contenuto nei granuli ha lo stesso significato funzionale della attivazione del mastocita tessutale per maggiori dettagli vi rimando alla lezione sul tessuto connettivo propriamente detto ma in estrema sintesi il fenomeno di cui sono responsabili questi mediatori è la reazione di ipersensibilità immediata cioè l'allergia devo confessare che il rapporto tra basofili e mastociti è per me fonte di estrema confusione a lungo si era pensato che il basofilo circolante fosse il precursore del mastocita una volta effettuata di apedesi il basofilo si trasforma in mastocita in realtà è stato ormai da tempo accertato che nonostante l'estrema somiglianza si tratta di due linee di differenziamento diverse ora attenzione i prossimi due minuti sono un po una mia lucubrazione potete saltare tranquillamente alla slide successiva ok allora io dico abbiamo due cellule basofilo e mastocita il mastocita è descritto come la cellula del connettivo il basofilo come la cellula del sangue sono molto simili ma sono diversi due domande almeno ma se il mastocita si trova nel sangue deve scusate se il mastocita si trova nel connettivo deve essere passato dal sangue e nello striscio che faccia il mastocito non si sa altra domanda se il basofilo è un globulo bianco il basofilo a un certo punto deve passare nel connettivo e io non credo aver mai visto una cellula nel connettivo chiamata basofilo è veramente un casino una cosa che ho letto è che il mastocita dopo essere stato immesso in circolo dal midollo osseo viene rapidamente trasferito alla milsa dove va incontro alle modificazioni che lo rendono maturo in quel momento passa quindi al connettivo e lì effettivamente agisce come avevo preannunciato c'era ancora una cosa da aggiungere sull'osinofilo oltre alla significativa azione antiparassitaria l'osinofilo interviene nei processi innescati da basofili e mastociti nel senso della moderazione solo per fare un esempio uno dei composti rilasciati dai granuli specifici dell'osinofilo è una istaminasi c'è quindi una sorta di antagonismo funzionale tra basofilo e osinofilo il primo rilascia molecole proinfiammatorie il secondo rilascia fattori che tendono a bloccarle e attenzione questa che vi ho fatto vedere qui è una semplificazione estrema e però quest'idea che l'osinofilo il basofilo insieme tendono a controllare l'intensità di una reazione infiammatoria credo che stia in piedi un interessante correlato del ruolo degli osinofili e che è possibile osservarne in gran numero in sede connettivale come in questo caso in soggetti affetti da certe patologie infiammatorie e croniche una per esempio potrebbe essere l'asma passiamo ora agli agranulociti partendo dal monocito qui il citoplasma è ampio lievemente azzurrofilo per la presenza di piccoli granuli primari cioè l'isosomi non direttamente visibili al microscopio ottico la forma del nucleo è qualche volta descritta come ac o a ferro di cavallo ma può anche essere più irregolare al microscopio elettronica trasmissione si confermano la mancanza di granuli specifici di quelli voluminosi e anche la morfologia piuttosto irregolare del nucleo ma senza quei sottili tratti di congiunzione tra lobby che sono tipici invece dei granulociti vi faccio anche notare l'irregolarità della superficie cellulare che un aspetto suggestivo della forte presenza e vivace attività dei microfilamenti in rapporto col plasma lemma questa componente citoscheletrica è di cruciale importanza nelle cellule destinate al movimento ameboide e tutto questo dovrebbe aiutare a ricordare che il monocita è il precursore circolante del macrofago cellula propria del connettivo vi rimando a quella lezione per maggiori dettagli mentre qui mi limito a sottolineare che i monociti provengono da una linea di differenziamento vicina a quella dei neutrofili cioè entrambi derivano da un progenitore della linea mieloide detto cfu gm da ultimo i linfociti che se ricordate questa tabella sono i globuli bianchi più famosi per così dire allora io quasi per dispetto ridurrò al minimo la trattazione di questa famiglia di cellule e mi dedicherò a pochi tratti distintivi cominciamo da qui dal cosiddetto piccolo linfocita la cellula è poco più grande di un globulo rosso ha un citoplasma scarsissimo nucleo tondeggiante sul cui margine spesso visibile una incisura insieme alla compattezza della cromatina questo assetto è fortemente suggestivo di uno stato di quiescenza funzionale cioè trascrizione limitata scarsi organelli citoplasmatica la cellula è tranquilla questa osservazione va d'accordo con la filosofia di base di linfociti che consiste nell'essere in grado di rimanere a lungo in attesa programmati per far scattare una determinata reazione immunitaria nel momento in cui sono esposti allo stimolo efficace e ovviamente attraverso recettori di membrana a quel punto i linfociti si attivano e vanno incontro a trasformazioni che qui non descrivo rimandando invece ai corsi di patologia generale di immunologia per gli ulteriori dettagli sul piano molecolare certamente sapete che i linfociti si distinguono in tre tipi ci sono linfociti b t e nk che sta per natural killer ebbene per distinguerli in un preparato istologico questa immagine non è sufficiente in altre parole questi linfociti sono sostanzialmente identici nell'aspetto microscopico per poterli effettivamente separare è indispensabile utilizzare tecniche come l'immunistochimica che consente di marcare proteine specificamente espresse da ciascun tipo l'unica distinzione che qua forse si può fare che gli nk tendono a essere più grandi ma c'è una complicazione ed è che anche linfociti b e t quando vengono attivati aumentano dimensioni e quindi nulla vieta che raggiungano il diametro diciamo normale di un nk allora è un gran pasticcio qui io mi limito ad accennare a queste due varianti morfologiche molto semplici linfociti medi e linfociti grandi grandi linfociti rimanendo alla larga dal tentativo di specificare a quale tipo appartiene ciascuna variante dal punto di vista delle dimensioni la crescita della cellula come vedete è prevalentemente a carico del citoplasma che resta livemente azzurrofilo ma privo di granuli visibili come sempre il microscopio elettronico aggiunge dei dettagli significativi e in questa bella immagine vi faccio notare la cromatina notevolmente compatta alla periferia del nucleo che peraltro fa risultare la cisterna perinucleare molto bella pressoché trasparente che vedete tutto intorno al nucleus con l'eccezione dei punti di passaggio i pori nucleari in cui è collassata poi si vede l'incisura del nucleo che crea questa sorta di incavo che accoglie organelli citoplasmatici e per esempio questo complesso di golgi anche qui i mitocondri sono pochi come peraltro è logico che sia dato l'assetto funzionale della cellula ho detto che non avrei trattato i processi legati all'attivazione di linfociti ma qui c'è un'eccezione facile da mostrare suggestiva dal punto di vista istologico allora come sapete il linfocita b è incaricato della produzione e secrezione di anticorpi facciamo finta di sapere che questo sia un piccolo linfocita b quindi a riposo ma con immunoglobuline esposte sulla membrana plasmatica con funzione di recettore in seguito al legame tra ligando che in questo caso si chiama antigene e l'immunoglobulina di membrana il linfocita intraprende un percorso di differenziamento una cosa piuttosto complessa da cui però in ultima analisi ha origine la cosiddetta plasma cellula come vedete il citoplasma striminzito del linfocita riposo e qui sostituito da un citoplasma ampio e dotato di una notevole quantità di reticolo endoplasmatico rugoso in particolare questo esempio è ancora più suggestivo vi faccio notare che i mitocondri sono aumentati di numero questa cellula è attiva e anche che le cisterne di reticolo endoplasmatico rugoso anziché essere come al solito appiattite hanno una capienza interna superiore alla norma è inutile dire che il reticolo è impegnato in una attività di sintesi di proteine estremamente intensa e queste proteine sono per la grande maggioranza immunoglobuline queste immunoglobuline saranno adatte a legare l'antigene che aveva innescato l'intero processo in seguito a secrezione quindi a esocitosi di vescicole ok al microscopio ottico l'abbondanza di reticolo endoplasmatico rugoso è apprezzabile indirettamente grazie alla intensa basofilia del citoplasma ok ricordate il reticolo endoplasmatico tappezzato di ribosomi fortemente basofili ma reticolo e ribosomi sono troppo sottili troppo piccoli per essere risolvibili al microscopio ottico però vediamo la basofilia diffusa in questa sezione non è visibile l'apparato di golgi che però è obbligatoriamente presente a valle della sintesi proteica legata al comparto membranoso quindi c'è certamente però sfuggia questa particolare sezione è interessante notare che nella plasmacellula non si osservano numerosi voluminosi granuli di secrezione cosa si può dedurre da questa strana proporzione tanto reticolo endoplasmatico ma poche vescicole destinate a spellere le proteine sintetizzate tramite esocitosi forse questo suggerisce che a differenza di altri tipi cellulari la sintesi e la maturazione di immunoglobuline è immediatamente seguita dalla loro espulsione cioè la plasmacellula non accumula anticorpi in attesa di ricevere ulteriori segnali e il suo programma biologico è come se dicesse sono stata attivata vuol dire che l'organismo ha bisogno di anticorpi tanti e subito appena sintetizzati fuori tutti chiudiamo con le piastrine che sono gli elementi figurati del sangue indispensabili per l'emostasi che è il controllo del sanguinamento si tratta come vedete di corpuscoli di dimensioni ridotte anche rispetto ai piccoli globuli rossi le piastrine hanno una forma discoide con un diametro di 2 3 micron e una sopravvivenza in circolo di una decina di giorni il numero di piastrine per millimetro cubo di sangue varia fra 150 e 450 mila questo è un altro parametro di enorme importanza clinica in particolare un crollo nel numero di piastrine rilevate da un test potrebbe rivelare una patologia della coagulazione in atto anche molto pericolosa la piastrina origina nel midollo rosso per frammentazione del citoplasma del megacarioceto e quindi un corpuscolo anucleato ma a differenza dei globuli rossi possiede un articolato repertorio di organelli e altre strutture di interesse al suo interno dove il globulo rosso è pulito 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 c'è solo citosol con emoglobina la piastrina invece al suo interno è molto articolata questo schema aiuta a descrivere l'organizzazione del trombocito che può essere suddivisa in quattro parti c'è una zona periferica che comprende il plasma lemma ricco di proteine a funzione di recettori e un glicocalice particolarmente denso poi c'è la zona strutturale che è la parte di citoplasma adiacente alla membrana plasmatica ricca di citoscheletro sia di actina e miosina sia di microtubuli e quest'ultimi sono come vedete dallo schema disposti ad anello e sono responsabili del mantenimento della forma discoide poi c'è la zona degli organelli la parte più centrale della piastrina e questa include mitocondri perossisomi lisosomi e granuli specifici che contengono fattori della coagulazione e altri mediatori vasoattivi e infine il trombocito possiede sistemi intercomunicanti di canalicoli alcuni in continuità col plasma lemma ricordano se vogliamo un po i tubuli t che a partire dalla superficie della cellula vanno dentro e formano una rete interna altri invece formano proprio un comparto interno e quest'ultimi derivano da reticolo endoplasmatico e sono in grado di accumulare ioni calcio questo è un fenomeno che si riscontra sempre più frequentemente in sempre più tipi cellulari è importante ricordare che l'accumulo di calcio in un comparto e poi il suo improvviso rilascio nel citosol ha un significato molto importante perché è proprio una via di segnale intracellulare di grande rilievo magari cercherò di mettere in cantiere un breve video supplementare con qualche dettaglio in più sul modo in cui poi queste piastrine si formano a partire dal megacariocito sul ruolo dei sistemi canalicolari e sui meccanismi di azione delle piastrine delle mostasi in conclusione ricordate questo preparato di striscio vi avevo detto all'inizio ricordatevelo perché ci torneremo alla fine allora nel frattempo abbiamo imparato alcune cose una è quanti sono i globuli bianchi rispetto ai globuli rossi e l'altra è quali sono i principali tipi di globuli bianchi e non so se adesso riconoscete spontaneamente il fatto che il numero di globuli bianchi è assolutamente superiore alla norma ricordate nel rapporto di una mille qui non ci siamo i globuli bianchi sono tantissimi un'altra cosa che si nota è che non tutti i tipi cellulari che vediamo sono familiari rispetto a ciò che abbiamo visto qui per esempio vediamo una grande cellula con un grande nucleo e un sottile citoplasma azzurrofilo che non abbiamo osservato in precedenza si dà il caso che questo sia un preparato patologico questo sangue appartiene a un individuo affetto da una forma di leucemia a un individuo affetto a un individuo affetto a un individuo affetto